Ciao a tutti, bello di conoscere! Mi chiamo Maria Teo Feculpe, sono il plant manager di Livorm, una planta di sorveglia italiana, localizzata sulla costa Tuscania e producendo precipitati amorphosi silica. Per me significa sempre essere attenzionato per il miglior gestione della planta, per evitare l'energia e ottimizzare l'utilizzo del materiale. Significa usare il pezzo sempre e sempre e sempre e improntare in black and white per combattere la fattura. Per me significa ottimizzare la mantenanza per evitare l'acqua e l'acqua. Per me significa chiamare soluzioni tecnologiche che portano i servizi di energia maggiore. Significa designare i processi e modificazioni di planta per essere più e più performanti sull'energia. Significa ottimizzare l'attività del prodotto per maximizzare l'efficienza. Per noi, sorveglia significa ridurre la fattura e recuperare il prodotto che è usato per la semplice invece di tirarlo. È una piccola quantità, ma da una piccola cosa facciamo i cambiamenti. Per me è trovare un piccolo modo per ridurre la fattura per usare l'acqua e le prodotti dopo alcuni trattamenti. Si può essere sostenibile in aziende di attività per esempio per non farlo. Per usare l'acqua e la ricerca e la storia successiva è stata la ridurre la fattura l'anno scorso grazie a un processo di deteczione separazione e trattamento per riuscire la fattura nel processo di produzione. Questa award conferma che siamo sul passaggio siamo molto orgogliosi e continueremo con entusiasmo e determinazione. Grazie molto per questo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.